Il primo percorso Linen Green è semplicemente un quadro sintetico che vi aiuterà a capire quelli che sono i fenomeni dettati dall'inquinamento. Leggere i dati dell'inquinamento, capire come vanno interpretati e quindi andarli a calare anche su quello che è la considerazione da fare sul nostro territorio e in Italia e in Europa. Vanno contestualizzati e quindi vanno anche capiti sia come individuo che come aziende perché dobbiamo capire quelle che sono le sfide che noi dobbiamo cogliere, che dobbiamo affrontare e soprattutto da queste sfide capire che opportunità noi possiamo cogliere per migliorare l'ambiente e anche soprattutto capire il business che possiamo svilupparne dietro. Grazie. 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 Grazie.